Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi lo so che ormai sto facendo praticamente solo video da Maranza E questa cosa potrebbe effettivamente dare fastidio Ma mi stanno piacendo Dovete sapere, dovete sapere che ho creato una gang di Maranza Un gruppetto di Maranza Attualmente siamo in tre Ma oggi forse, forse se l'universo maranzese vorrà Ci sarà un nuovo arrivato Intanto vi faccio conoscere i due nuovi membri Che in realtà uno lo conoscete già abbastanza bene Ma l'altro no E abbiamo ovviamente il grandissimo, famosissimo, rinominato Ludo Che ormai raga siamo fratelli si sa E la new entry è Ollimi400 Che è praticamente il fratello di Ludo L'unica cosa è che io l'ho conosciuto da molto poco E Ludo me l'ha fatto appunto conoscere Ovviamente ragazzi in questo momento sono in live Sanno, esatto, l'altro bro, esatto Come potete vedere siamo proprio una squadra Infatti squadra che utilizzerò per fare in questo momento la copertina di questo video Come potete vedere ragazzi siamo appunto una squadra Un trio Però secondo me Ora io non so cosa pensano i ragazzi Ci manca proprio quel peperoncino, no? Quel pepe che tu dici Sai che però forse ci potrebbe servire qualcuno di nuovo E secondo me ragazzi oggi dovremmo andare a cercare un nuovo membro Detto questo La famiglia è unita e nessuno cade Esatto Venite con me ragazzi Oggi il nostro quarto membro Soggiornerà qui Insieme a noi Venite Venite Andiamo Allora devo capire se la Lamborghini nuova che hanno messo C'ha più di tre posti E mi sa di no perché ha due Quindi mi sa che la Lamborghini non la possiamo pigliare No Ludo mi dispiace Ci serve una macchina più grossa Una macchina che tu dici Questa è la macchina di Maranza Questa è la nostra macchina C'ha tre posti Si può entrare in tre Spero Si 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 Perfetto Ok detto questo Allora mettiamo ovviamente velocità massima 200 La coloriamo di viola Perché il viola è il colore che rappresenta il nostro movimento ragazzi Andiamo a cercare un nostro nuovo membro In realtà ragazzi In realtà io so già chi sarà il nostro nuovo membro Ma non ve l'ho voluto spoilerare Forse dal titolo Non lo so se effettivamente lo scoprirete Devo capire dov'è la casa di questo nuovo membro Ed è proprio lì Nel chilling maranziale Già vedo qualcuno eh Il server è stato proprio adibito ai Maranza Oh la signore e signori Ed ecco a voi la casa di lui Solo lui Mio cugino Angelo Angelo per cosa mi senti? Ragazzi mio cugino è morto Oh calmati 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 I ladri Non siamo ladri Non siamo ladri Stai Stai calmo Stai calmo Guarda che siamo 3 contro 1 Ti ammazziamo Ma ti sei messito di carnevale? No Non siamo Allora ti presenti E' in casa Veroce che se no entra tutto l'esercito Esatto Ragazzi venite con me un secondo Venite venite Posa sto fucile Mettetevi qua nel divano E illustrate tutto quanto Quello che dovete dirmi Allora Allora Angelo Ti spiego com'è il discorso Allora intanto ti presento Ludo Non so se lo conoscevi già Probabilmente si E poi c'è anche Olli mi 400 Allora io ho capito una cosa Caro Angelo Che ormai Brookhaven E' diventato un posto Molto poco sicuro E quindi Noi youtubers Abbiamo bisogno Di camminare Con dei fratelli Con della gente Che ci muore effettivamente Con qualcuno Dici tu che ti protegga Guarda che fucile che c'ho Posso proteggere tutti Guarda come spara Guarda come spara Guarda come spara Sì ma la smetti di fare l'epilettico Ci devi dare una mano E ragazzi Posate le armi Posate i ferri Posate i ferri Che sono fratelli Noi siamo un po' I tre moschettieri Blu Azzurro No scusami Blu Rosso E grigio Ci serve un ultimo membro Il quarto Ora io so che tu Caro mio cugino Non hai un bel rapporto Con i Maranza E come puoi ben vedere Anch'io Sono dovuto quasi cambiare Per adattarmi A questo nuovo mondo Non ti avevo riconosciuto A questa nuova realtà Oh mio dio Angelo Ti facciamo la proposta Come dice Ludo Vuoi diventare membro Della nostra gang Ma attenzione Perché qualora dovessi accettare Il tuo avatar Dovrà cambiare Dovrai essere un Maranza giallo Dovrai cambiare completamente per noi Dovrai sacrificare il tuo stile Da papera Per il bene maranzesi Caro angelo Dovrai cambiare tutto Fammi capire Allora praticamente Quello che dovrei fare io È andare a stravolgere Completamente il mio avatar Facendolo diventare un tipo alto Super bislungo Super bislungo Per parlare in modo cringe Andare in giro Nooo Io non sto parlando Io non sto parlando in modo cringe Tutto per cosa Che ci guadagno io Guardaci Angelo Fuori No E allora che ci guadagno No fuori Non ne voglio Passo C'è già Sei protetto Sei protetto Sei protetto Diventi nel nostro gruppo Diventi letteralmente ineluttabile Ma io sono già protetto Guarda che bel fucilazzo Che c'ho Guarda Mi dispiace Ma non basta Quell'arma Angelo Guarda quanta gente c'è fuori Noi ne abbiamo due Anzi Tre Guarda qua Ce l'ho pure io Ma c'è un camion Alberto accetto Hai visto Hai visto Porca boia Guarda Con noi Con noi Riuscirai a non farti pullappare dai camion Detto questo Io ti lascio bandiera bianca Voglio vedere Che cosa diventa il tuo avatar Cambialo tutto Dal corpo L'unica cosa che può rimanere Guarda se vuoi Ti puoi tenere lo zainetto Con l'anatra Che è molto Con la papera Che è molto bello Giusto perché c'è un coltello Ed è poco raccomandabile Per il resto devi diventare Mega alto come noi Giallo se vuoi Ma devi essere un malanza Angelo Me ne vado al negozio di vestiti Ti conviene Ti conviene Ti conviene Ok Allora ragazzi Vedi 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 Mi proteggono pure dai fan Che vogliono Che vogliono essere Invalenti Dei paparazzi Mi proteggono Da qualsiasi cosa Madonna Allora siamo in macchina Quindi A parte che Già come puoi vedere L'associazione Maranza SRL Ci ha regalato Questa bellissima Monster Truck Senza pagare un euro Angelo Cioè per farsi capire Sto sparando ai paparazzi Comunque ti dirò I capelli Secondo me Già ce li hai Da Maranza Dovrei toglierti ovviamente Il cappuccio Però I capelli Ce li abbiamo già I capelli ce li abbiamo già Allora Dobbiamo andare Al negozio di vestiti Che è qua Rockstar Perché ovviamente Tu sei una trapstar Però sei effettivamente Una rockstar Quindi caro Cambiati Angelo Ti aspettiamo noi qua fuori Va bene Va bene A dopo Allora Marinatevi i vestiti Per favore No Angelo Ragazzi No Non possiamo fare una rapina Mentre mio cugino Si cambia Va bene che siamo Maranza Ma dobbiamo stare Un attimino calmi Ragazzi scusatemi una cosa Ma dove le avete presi i soldi Una domanda Da dove sono arrivati Questi soldi Scusatemi Io stavo facendo cambiare I miei cugini Abbiamo i soldi Per i vestiti di Angelo Ho capito Ma non è che siamo Da Louis Vuitton Angelo hanno rapinato La banca Capisci cosa fanno I tuoi fratelli per te Cioè tu hai firmato Un patto Angelo E loro hanno Rapinato una banca Ti rendi conto Ma io non glielo ho chiesto Va bene ragazzi Incredibili Incredibili Allora ragazzi Angelo Maranza Sta prendendo forma Comunque Attenzione Ti vedo bello arrabbiato Angelo Sei bello arrabbiato Sei Mamma mia Cugini Very angry Mamma Vabbè quelli con i soldi Che hanno rapinato Ma Dicono che devi crescere Un po' Però Mi sa che devi farti Un pochettino più lungo Angelo E come fasbo Io non lo so Se si può fare effettivamente Da Brookhaven Se ti puoi alzare Perché l'altezza c'è Però se tu hai detto Che già l'hai fatta al massimo Al massimo così Comunque Sti pantaloni Io li cambierei Onestamente Sto cercando infatti Quelli nuovi Bravo 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 Dicono che Dicono che ti devi evolvere Un po' Comunque Ti devi evolvere Ragazzi Angelo C'ha pure i fan fuori Che scrivono Angelo Il fresco di zona Effettivamente Sei un po' Fabrizio Ragazzi Guardate la trasformazione Suprema di mio cugino Cioè Nei commenti Raga Chi si sarebbe Mai aspettato Di vedere Angelo Maranza Su Roblox Cioè ma ci rendiamo conto Sei proprio Fabrizio Angelo No Allora Allora Aspettate un secondo Mettiamo delle Chiariamo una cosa Purtroppo Mio cugino Sarà quello Basso tra i quattro E sarà quello Che rapinerà meglio Che si infiltrerà Perché Perché purtroppo Su Brookhaven Non si può diventare Più alti manualmente Già al massimo E dovrebbe comprare Tutti gli oggetti Magari faremo un video In cui li compreremo Però lui li sta prendendo Su Brookhaven Capito Quindi niente Ci serviva un bro così Un bro basso Un bro basso Il coltello Il coltello Il coltello Guarda Mamma mia C'è il coltello in mano Angelo Che hanno fatto Allora Signore e signori E con onore E con piacere Che vi presento Colui Che si unirà Alla nostra gang Di mananza Sono Guarda Ok Allora Angelo Adesso serio Però Voglio che tu Io ti voglio fare una domanda Da 1 a 10 Quanto valuti Questo avatar Che comunque Ti si è fatto da solo Eh Cioè se consideriamo Ovviamente Paragonandolo Però Al tuo vecchio avatar Cioè ti piacerebbe Di più Girare così Per Brookhaven Fuori da questo video Intendo Oppure Con il tuo originale Che vabbè Iconico Ok Però Cioè ti senti Più confidente Più diciamo Spesso All'interno Di questo avatar Oppure Nella papera Diciamo Ecco Scelta difficile Fra Con la papera Sento l'acqua Tra le gambe Con questo Sento il vento Tra i capelli Eh Capito Perché qua Giustamente Con la papera Cioè c'hai La frecchezza Fra C'hai il Il coso Il cappuccio E ragazzi Voi invece cosa ne pensate Che voto date All'avatar di mio cugino Popo con 2G È infasil Fra più su Di più su Aspetta Angelo Però mi devi fare vedere Come sei con il coso Con l'overboard Perché altrimenti Non sei un maranza Vuoi vedere Fammi vedere È un fratellino 11 L'overboard L'overboard è premium Fra Sono un avatar Un po' standard Cioè tu fai video Su Roblox Brookhaven E non c'hai Il premium Su Brookhaven Io li faccio Sull'Iftopia Cioè tu non hai Il premium Su Brookhaven Dai Fra Fai il serio Ah perché Come dice Yuko Troppo fresco Non va bene Quindi tu comunque Ti devi mantenere Diciamo Dai Fai il serio Fra Fai il serio Sì ma non sei Sì ma non sei un vero Fresco Però senza 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 Overboard Angelo Ma sì Fra dai Ragazzi 5000 mi piace E regalo il premium A mio cugino Angelo Ma perché ti hanno Accoltellato al cuore Cos'è una cicatrice di guerra Fra No Litigato con una Allora facci vedere Perché Angelo L'ho rimesso al suo posto Ok ma allora Ora tu ti sei fatto l'avatar Bello Carino E tutto ciò che vuoi Però devi darci dimostrazione Che sei veramente Un vero fratello Hai due minuti Tutto quello che vuoi Due minuti Per fare una rapina Da solo E portarci i soldi Sei in grado di farlo Ah così Va bene dai Ti seguiamo noi Noi vediamo come Come operi Perché a noi serve A noi serve un nano A noi serve un nano Nella squadra Nano lo vuoi dire a qualcun altro Dai muoviti Non farti beccare Non farti beccare Dalla sbirraia Venite ragazzi Venite 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 Occhio alla pull account Certo però senti Con un cecchino Scusate Ecco Già hai perso una cosa La carta Come l'apri Come lo apri Qua senza carta Ehi Guarda che non Guarda che non Dipendiamo nel gruppo Scusa mi lasci fare Oddio non passo dalla porta Per quanto sono spesso Sono proprio il mech Io non ho bisogno Della carta fra Si che c'è bisogno Della carta Altrimenti non ti fa entrare Vai Sono furtivo Entra 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 Nevati Sono furtivo Sono furtivo Ah Colletto Entri Sono furtivo Sì ma così ti addormenti Dentro la porta Ecco così magari Vediamo Madonna se spacchi Sono furtivo E vediamo Fammi vedere come spacchi il cavo Fammi vedere Fammi vedere Ragazzi voi ce la fate Oppure ce avete proprio la patente Per essere idioti Ecco grazie Il cavo fra Il cavo fra non si spacca Bisogna agire in silenzio Il giorno d'oggi Ma Ah Tu sei Sei proprio il re dei letti Tu Sono furtivo Non mi faccio notare Ludo dice che Fra Stai sbagliando tutto Di geludo Effettivamente si Oh Ce l'ho fatta Indolore Indolore Damn Raga ce l'ho fatta Senza allarme Senza niente A me non si accorgono di niente Hai capito Angelo È furtivo Non si accorgono di niente Guardalo Sbam Fammi vedere Guarda i cashfra Andiamo dai Andiamo con i cashfra Adesso ce lo andiamo a giocare tutti Sono uscito con i cashfra Dai andiamo a giocarsi A bingo blocksi Ragazzi Andiamo a giocare Da me Mio cugino E la mia gang È tutto Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ragazzi che dire Sicuramente Devo andare a prendere Gli abiti di Supreme Io quello che mi posso dire Mettiti tipo davanti a me Angelo Senza soldi Anzi no con i soldi Davanti a me però che guardi Verso la cam Guarda che fit Guarda che fit Eh ti vedo Ti vedo No però davanti a me che guardi Verso diciamo indietro Ok Ragazzi Cioè io non voglio dire niente Io vi dico solamente questo A voi che state guardando questo video Queste quattro facce Voi non ve le dimenticherete Così facilmente Questi ragazzi Creeranno dei seri problemi All'interno di Roblox Brookhaven I bravi ragazzi Nei brutti quartieri Ci chiameranno Vi invito A trovare un nome Per questa gang di Maranza Nei commenti Noi ci vediamo alla prossima Scusa un attimo Scusa un attimo Proprio dimenticato Il fresco di zona Ok Ciao ragazzi